La maggioranza è che va tutto bene e va da l'anno, perché voi chiedete di dire che tutto quello che abbiamo sostenuto, che ci sono reali e problematiche, vada negato e cancellato perché va tutto bene e va da l'anno. È evidente che la realtà si confina un po' con questa vostra indicazione, un po' fondamentalistica, quella di dire che va tutto bene, perché non va tutto bene. È il fatto che il piano socio-sanitario 2017-2019 sia una soluzione di tutti i mali che è un po' flessivo dell'intelligenza delle persone. Sono dei problemi reali che noi abbiamo segnalato in questa seduta. Voi rispondete che va tutto bene e che deve andare avanti di dire. Capisco che di fronte alla forza dei vostri numeri, dove dovete dimostrare 16 a 15, che la realtà non conta e conta solo le intenzioni. Segnano solo che sono tre anni che costruite strategie, sinergie, castelli, strumenti vari e che la realtà, che è quella che è proprio interessante ai cittadini, va in un'altra direzione. Per cui dire che avete fatto bene non è un modo per risolvere i problemi, è un modo per raccontarla e sinceramente a farcela raccontarla ci stiamo più di bene.